Eliminare le occhiaie e le rughe sotto gli occhi con questo incredibile rimedio a casa. Questo semplice rimedio include solo due ingredienti, ma poterà un risultato sorprendente per la pelle intorno ai tuoi occhi. Eliminare le occhiaie e le rughe sotto gli occhi sono le cose che questo rimedio farà per voi. I tuoi occhi sono la chiave per i giovani. Quando si tratta di ripristinare uno sguardo giovanile, i tuoi occhi sono la tua più grande opportunità. Tuttavia, la pelle intorno agli occhi è incredibilmente delicata e può essere facilmente danneggiare le cose come strofinare gli occhi, non idratare o non dormire abbastanza. Le rughe sotto gli occhi anche essere causate dalla betita naturale di colacene a causa dell'invecamento. Pertanto, il rimedio che condividiamo oggi aiuterà a trattare le rughe sotto gli occhi e fornire una pelle dall'aspetto giovane in pochissimo tempo. Questo è un 100-100 rimedio naturale che vi salverà da eventuali effetti collateriali e riparare i danni per ringiovanire la pelle. Per iniziare, curcuma in buon bere e in primo ingrediente è necessario preparare. Curcumina anti-invecamento, una componente importante della curcuma, ha forti proprietà antiossidanti che inibiscono la produzione di radicali liberi e quindi controlla l'invecamento proteggendo le cellule dai danni. Curcuma aiuta anche a stimolare la crescita di nuove cellule e riduce al minimo anche le occhiaie. Prendere una ciotola pulita e aggiungere 1-4 cucchiaio di curcuma in buon bere in questa ciotola. Il prossimo ingrediente è il latticello. Il latticello contiene acido anfa-idrossido e acido lattico. Entrambi gli acidi nel latticello aiutano a esfoliare e schiarire il pimento del pelle. L'acido lattico può aumentare il processo di guarigione del pelle e dare una consistenza di sciale pelle. L'acido lattico e gli acidi interossidi anfa sono utilizzati nella maggior parte dei prodotti di bressa progettati per sbarassarsi disegni scuri e macchie legate all'invecamento. Aggiungere 2 cucchiai di latticello nella ciotola di buon bere di curcuma. Ora, utilizzare un cucchiaio e mescolare bene tutti gli ingredienti, assicurati di avere una pasta liscia. Come usare? Prima di andare a letto, lavare il viso con acqua di abida. Poi applicare questo rimedio. Quindi applicare questa pasta sulla belle zona sotto gli occhi. Massaggiare delicatamente e poi lasciarlo acceso per 20 minuti. Dopo 20 minuti, laverlo con acqua di abida. Quindi non quella fredda per stringere i poveri. Applicare questo regolamento per ottenere i migliori risultati. E alla fine, se ti piace questo video, dagli un buon liceo in alto e condividetelo con i tuoi amici. Se vorresti più ricette e suggerimenti, iscriviti al canale. Allora?